Buongiorno a tutti cari amici elettronauti, voi vi fidereste a comprare un'auto di 5 anni? Magari una Zoe, quindi un'auto che ha fatto tanti chilometri, tipo questa ne ha fatti 110.000 Ma come sarà la batteria? La domanda fondamentale a cui nessuno sa rispondere Bene, ve lo dico io, oggi lo scopriamo insieme Saperlo non è difficile, non è difficile oggi Perché oggi finalmente abbiamo questo affarino qui Che non è nient'altro che un sistema che si collega all'OBD della macchina Dovete sapere che tutte le auto hanno un OBD, sia quelle elettriche che non E questo sistema si interfaccia con un'applicazione che va ad analizzare cella per cella E ci dice esattamente come sta la batteria di questa piccola Zoe Il software si chiama Power Check Control Fa parte della famiglia del Power Cruise Control Lo sviluppatore è sempre lo stesso e la licenza d'uso è sempre la stessa Quindi se lo volete sapere trovate il link in descrizione Prima di tutto bisogna avere una licenza di Power Cruise Control Che costa una ventina di euro all'anno E con quella potete fare tutti i certificati che volete Poi vi spiego cos'è il certificato Questa è l'auto di una lavoratrice che la utilizza proprio come auto principale Sia per lei che per il suo lavoro È una fiorista di Brescia che ringraziamo veramente tanto E trovate qui sotto il suo indirizzo che chissà magari volete andare a farci un giro Quindi l'OBD si inserisce qui Tutte le auto hanno un posto diverso Molte sta vicino allo sterzo Nel caso di Zoe, nel caso di questo modello di Zoe Che è un modello di 5 anni fa L'OBD si mette qui all'interno di questo vano L'OBD che siamo andati ad inserire Si interfaccia in Bluetooth Con un'applicazione che c'è sia per Android che per iOS Che si chiama appunto Power Check Control Ok, allora apriamo insieme l'applicazione Per prima cosa c'è questo logo che va su e giù di PKC Premiamo Play ed è un wizard Qui si dice a cosa serve PKC Ma lo sappiamo bene Qui andiamo ad inserire il nome Imposta la tua auto Rick Qui la mia auto non c'è Perché dovete sapere che in base al modello di autovettura La piccola presa OBD va collegata in un posto o in un altro Oppure ha bisogno di un cavo Che poi vi faccio vedere con la mia Tesla Model 3 Che è qui in parte Perché faremo la stessa cosa anche con la mia Tesla Quindi tutti gli altri modelli Per questo genere di auto Ok, qua mi trova già l'OBD che è collegato Quindi andiamo dentro Ci sono alcuni OBD compatibili Ma vi consiglio di utilizzare direttamente solo quello che trovate su Amazon E Power Cruise Control Ve lo metto in descrizione Perché gli altri modelli potrebbero non essere supportati Potrebbero non funzionare E non vi danno assistenza su quei modelli Configurazione completata Tap button to continue Perfetto Andiamo avanti Facciamo di nuovo Play Ok, PKC è pronto Qua mi chiede se può utilizzare la posizione Sì, assolutamente Quando utilizzo l'app Perché dopo voi vi spiego Start Ok Ok Pronti, ci siamo Ok Cosa importante L'auto deve essere parcheggiata E tutte le portiere devono essere chiuse L'auto deve essere non connessa ad una presa di corrente E il motore deve essere acceso Nel nostro caso, insomma, deve essere accesa Chiudiamo tutte le portiere e premiamo cerca Si connette Ok Cerchiamo Connessione in corso Adesso Ok Si è connesso Sta controllando l'auto Qui c'è un timer di circa 5 minuti Ma in realtà ce ne vogliono molti, molti meno Sono proprio curioso Curioso Ok L'auto è stata identificata come una ZO2241 C'è una licenza valida di PCC Posso continuare Perfetto Come vedete Adesso mi sta compilando Tutto il certificato Sta leggendo tutti i dati Ha letto il VIN Che è il numero seriale Ok L'odometer Mi dava un tot di chilometri Ah, boh Già adesso Mi sta chiedendo di identificare l'auto Perché? Perché questo sistema Oltre chiaramente a dirvi come sta La batteria Vi fornisce un certificato E voi questo certificato Lo potete utilizzare anche per Non so Vendere la vostra auto Certificando che effettivamente La batteria È in un buono stato Oppure no Se è così Non è in un buono stato Allora Qui c'è il VIN Quindi noi possiamo andare a Fotografare il VIN Ok Lo potete fare Da qui Oppure utilizzando Non so Il libretto dell'auto Andiamo avanti E in questo momento Mi chiede di fare Una fotografia All'odometro Ok Poi vabbè Ci chiede anche di fare Delle foto degli interni Delle foto degli esterni Ma in questo caso Non ci interessa Tra l'altro è una cosa Che insomma È facoltativa Andiamo avanti Poi possiamo inserire Delle note Ed ecco Ci dà la posizione esatta Quindi Longitudine e latitudine Andiamo avanti Genera il certificato In questo momento Sta inviando Le informazioni Ad un server Ok Qua mi dice Di aspettare 36 ore Perché il certificato Venga generato Questo perché Ora il personale Di Power Check Control Starà verificando Le informazioni Quindi Se l'OBD Ha letto Il VIN corretto Che noi abbiamo Fotografato Ok Perché è molto importante Chiaramente Perché voi Non è che potete Fare il certificato Di una macchina Fotografare il VIN Di un'altra Ok Molto importante E poi Loro validano Il certificato E me lo mandano Via mail Ovviamente Questa cosa Accadrà in Due secondi Bah Che strano Abbiamo ricevuto Una mail Da Power Check Control Ok Clicca qui Per vedere Il certificato Boom Ci colleghiamo Attendiamo Eccolo qua Perfetto Allora Qui abbiamo Il VIN Della mia macchina Renault Zoe 22 kWh L'ID Del certificato Che è un ID Univoco E il QR code Molto Molto Importante Perché Praticamente Con quello Potete Effettivamente Controllare Che sia Reale Che sia Un certificato Emesso Da Power Check Control Quindi Se voi Prendete Questo certificato Lo date Qualcun altro O lo mettete In bella vista Quando vendete La vostra auto Magari dal concessionario Una persona Va lì Scansiona Il QR code E sa Effettivamente Tutte le informazioni Della macchina Le informazioni Che ci sono Qui su questo Certificato Non sono Informazioni Personali Non c'è Nessun nome Non c'è Nessun cognome Eccetera Quindi Tutte informazioni Che sono Reperibili Direttamente Solo guardando L'auto Ma veniamo al succo Del perché Siamo qui Siamo qui Per capire La batteria In che stato è Bene La batteria Il 96% Quindi Actual Max Battery Capacity Respect Brand new car Quindi Se un'auto Nuova 100% Di batteria Questa 5 anni E 110.000 km Ancora Il 96% Quindi direi Che l'hanno Trattata Molto Molto Bene Altra cosa Super interessante Tutte le 96 Celle Sono state Misurate E Sono tutte In verde Quindi I tecnici Di Power Check Control Diciamo Che hanno Un po' Studiato Questa Differenza Che c'è Tra una Batteria Sana E una Non sana Quindi Ci sono Un 50 Millivatt Di Diciamo Errore Per entrare Nel giallo Poi Nell'arancio E nel rosso Quando proprio Quella cella Deve essere Sostituita Qui tutte le celle Sono verdi L'unica cella Che potrebbe Avere Un problemino È la cella 39 Che ha Però Solo 12 Millivolt Scusate Prima mi sono Sbagliato Millivolt Di delta Quindi Se dovessimo Dare un voto A questa Zoe Direi Che ci merita Un bel 9 Ora Facciamo la stessa Cosa per la mia Tesla Perché sono Veramente curioso Dato che io Ce l'ho Da tre anni Ci ho fatto Quasi 70.000 Kilometri Insomma Come sarà Messa la mia Batteria Scopriamola Insieme Ok Prima cosa Da fare Dobbiamo Selezionare L'auto Allora La mia Auto È una Tesla Model 3 Post Gennaio 2019 Perché l'ho comprata A marzo Del 2019 E Perfetto Qua mi dice Già Che ci vuole Un cavetto Particolare Che si può Acquistare Su Amazon Eh Tada Il miracolo Tecnologia Avantissimo Tac Consegna Amazon 5 secondi Eccolo qua Perfetto Allora Questo cavo Ora vi spiego Dove va installato Io mi sono fatto Arrivare questo cavo Solo per dimostrarvi Che ci sono Tutti Su Amazon E ci sono Tutti i link Qua sotto In descrizione Ma io il cavo Ce l'avevo già L'ho già montato Ed è lì sotto Ok Andiamo ad inserirlo A posto Ok Ho riconfigurato Tutto Vado Scanning Bluetooth Nel caso della Tesla Ragazzi dovete stare Dentro l'auto Per generare Il certificato Perché Tesla Non manda il VIN Se l'auto Non è accesa E non ci sono Chiuse le portiere Quindi per farlo Dovete stare qui dentro Connecting Connection Successfully Nel frattempo Io mi metto Già in Modalità Software Così posso fare La fotografia Il VIN Ok Fotografiamo Il VIN Usiamo la foto Avanti Ok Fotografiamo L'odometer Genera certificato Sta inviando i dati Ok Dati inviati Adesso aspettiamo La risposta Mamma sono in ansia Sto aspettando Dai dai Arrivato Vediamo 69,2 Kilowattora Ok Promossa Ragazzi 69,2 Kilowattora Di capacità massima Contando che Queste Tesla Hanno una Batteria A nuovo Da 74 Vuol dire Che ho perso Più o meno 5 Kilowattora Anzi 4,8 Kilowattora E non è male Per tutti i chilometri Che abbiamo fatto Allora C'è anche da dire una cosa Le batterie a litio Perdono Più tanto I primi anni Poi dopo Si stabilizza E rimane tale Quindi più o meno Non dovrebbe perdere Ancora di più Ah un'altra cosa interessante Che volevo dirvi È che Il certificato Può essere generato Ogni 60 giorni Per auto Ma se voi avete La licenza di Power Cruise Control Potete farlo Diciamo Su tutte le auto Che volete Però Per ogni singola auto Il certificato Vale 60 giorni Andiamo avanti Scendendo Qui abbiamo un delta Di 5 millivolt Molto molto bene I consumi medi Sono un pochino alti 249 wattora Al chilometro Anche perché Le Tesla Come sapete Consumano Anche da ferme Sul mio Odometro In auto Più o meno Sugli ultimi 10.000 km Ho fatto Ho un 219 Wattora Al chilometro Il dato Non si discosta Tantissimo Cosa interessante Abbiamo La batteria Era al 37,5% Quando è stato Fatto il test A 17 gradi Centigradi Abbiamo un battery Buffer Da 3,1 Kilowattora Il battery buffer Non è nient'altro Che quell'indicazione Dello 0% Che vi dà Il cruscotto Dell'auto Ecco Ci sono ancora 3,1 Kilowattora Da poter utilizzare Ma andateci Piano Insomma Andateci col piede di piombo Anzi col piedi Molto leggeri Volevo dire Altra cosa molto interessante Da capire E quante volte È stata ricaricata In AC E quante in DC Bene qui siamo Praticamente a 50 e 50 8.994 Kilowattora Ricaricati in AC E 8.944 In DC Perfetto E sapete quanti Kilowattora Sono stati Rigenerati Quindi utilizzando La frenata Rigenerativa Ben 4.455 E guidati 19.766 Beh Non male Direi che ha vinto Altra cosa Importantissima Le celle Come stanno Le celle Stanno Molto Molto bene C'è un solo Delta Di 5 Millivolt Bene Quindi è stata promossa E io sono contentissimo Che questo sistema Funzioni alla grande Trovate tutti i link In descrizione Ciao